Elisa Donisi in arte Alisia, hai partecipato a Mazzarò al concorso per poter essere selezionata e quindi andare al festival di Sanremo? Sì, ho partecipato alle finali regionali, sono passata e adesso andremo a fare le semifinali nazionali a Sanremo, sperando di passare. Quando eravate le concorrenti inizialmente in Sicilia? Inizialmente eravamo circa 1.700 e adesso siamo 80. Quindi andrete in 80 siciliane a Sanremo, quanti siete concorrenti a Sanremo? Adesso saremo sicuramente un 600 in tutta Italia e ne passeranno 100. Senti, tu hai completato gli studi lo scorso anno, lo scorso mese di giugno, ti sei diplomata? Sì, mi sono diplomata a Liceo Artistico e adesso spero di continuare però nel settore della moda, quindi qualche accademia di moda. Ah, quindi tu fai sia canto che ti occupi di moda. Senti, stai partecipando ad altri provini, concorsi, cosa fai? Ho partecipato ai casting di amici, poi sto facendo una selezione per il premio di Lucio Battisti, che si terrà a Porto in Bedocle. In che cosa consiste? Sempre nell'ambito musicale? Sempre nel canto, canterò delle canzoni. E nell'ambito invece della moda cosa stai facendo? Io mi realizzo i costumi di scena, me li invento io per adesso. Ma ci sarà opportunità di votarti tramite telefonato oppure un discorso solo esclusivamente, parlo di Sanremo, di questa nuova vendura che andrei a fare. Nel secondo punto, quando sarà? Sarà il prossimo mese, fine mese. Non c'è un televoto, un qualcosa, sono solo i giurati a decidere. Già sai chi sono i giurati? Sono sicuramente quelli della produzione di Sanremo e il presidente dell'orchestra sinfonica di Sanremo. Dove hai imparato a cantare? Tu certamente... Studio da cinque anni, quasi sei, all'Accademia Palladium, diretta da Liaminio. Studio da cinque anni, quasi sei, all'Anno.